Ciao ragazze e benvenute o bentornate nel mio canale e come avevo anticipato eccovi il video haul dell'ultima collezione di Kiko che come sempre sforna collezioni a non finire e questa collezione non ho ben capito se sia una collezione vera a tutti gli effetti oppure è una capsule collection quindi se voi lo sapete fatemelo sapere giù nei commenti comunque devo dire che questa collezione è abbastanza molto ricca e varia e stavolta Kiko non si è concentrata solamente sul make up ma ha inserito anche dei prodotti per la skin care o comunque prodotti per la cura della persona che io ho apprezzato tanto questa cosa e tant'è che ho acquistato molti di questi pezzi quindi prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella per essere sempre aggiornate e se vi va lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e se vi va sempre nei commenti commentate fatemi sapere qualsiasi cosa oppure anche se avete qualche richiesta in particolare volete vedere qualche video in particolare fatemelo sapere e soprattutto di questa collezione fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosa se sì cosa e soprattutto se vi è piaciuta detto ciò let's go prima di mostrarvi i prodotti che ho acquistato voglio leggervi la presentazione che trovate anche sul sito Kiko allora Kiko dice concediti un momento di bellezza e armonia con la nuova collezione precious rituals una selezione completa di prodotti make up skin care e accessori nata per trasformare il tuo momento beauty in un prezioso rituale di benessere formula vegan ad elevate performance arricchite con ingredienti di origine naturale come estratto di zafferano, aloe vera, olio di mandorla, olio di semi di sesamo texture sensoriali ricche e dall'incredibile rilascio colore infuse con avvolgenti ed esotiche note tra cui fiori di riso, zenzero e cannella tonalità calde e diversi finish tra cui scegliere un packaging innovativo e materico caratterizzato da pregiate finiture color oro quindi raga Kiko ci porta al rituale di bellezza ispirato alla tradizione ayurvedica infatti sui pack comunque sono riportati come si può ben vedere tutti questi disegni, questi mandala i colori di questa collezione sono due principalmente abbiamo questo color melanzana e uno ruggine decisamente più caldo e iniziamo proprio con i prodotti che ho deciso di non acquistare ossia un olio per struccare idem anche il fondotinta perché ne ho altri ancora da provare poi non ho acquistato il pennello duo per il viso perché da un lato c'è la sponge l'ho trovato poco igienico sinceramente poi non ho preso il bronzer che sono sempre le solite due colorazioni invece sono stata molto combattuta con l'illuminante perché swatchato mi è sembrato bello riflettente ma alla fine non l'ho preso per via del pack che poi tra poco vi mostrerò che è un bel pack ma secondo me è un po' scomodo però se voi cercate un buon illuminante io quello ve lo consiglio secondo me è un buon prodotto perché swatchato era veramente bello poi altro prodotto che non ho acquistato sono le palette occhi in due referenze colori una sui toni caldi del marrone e l'altra sui toni freddi del rosa che sono comunque dei colori già visti poi non ho preso l'eyeliner perché è fatto a pennellino e invece io mi ci trovo meglio con un eyeliner in penna poi non ho preso le matite per sopracciglia perché sono delle semplici matite temperabili con una mina classica e anche i lip balm colorati non li ho presi in quanto ho ancora il lip oil della collezione eccolo qui della collezione fruit explosion che devo terminare poi non ho preso il mascara che in base allo scovolino dona due effetti diversi quindi lunghezza e volume ma sinceramente ho troppi mascara aperti quindi ho preferito evitare e infine le ultime cose che non ho preso sono dei dischetti struccanti riutilizzabili e un pennello viso esfoliante niente queste sono le cose che non ho acquistato e adesso finalmente passiamo ai nove prodotti che invece ho deciso di acquistare il primo prodotto che vi mostro è questo siero viso idratante e questo è il bellissimo pack secondario questo è il pack vero e proprio e dietro c'è scritto siero viso illuminante allora questo siero è arricchito con olio di mandorle olio di semi di sesamo ed estratto di centella asiatica il pack è in vetro e ha un erogatore vedete con contagocce utile a non sprecare il prodotto può essere utilizzato sia da solo o come primer prima del make up poi ho acquistato il correttore idratante questo invece è nel pack violaceo e questo stavolta l'ho acquistato nel colore 1 perché quello della precedente collezione ho preso il numero 2 poi non matchava bene con il mio viso il mio incarnato e quindi stavolta ho preso il numero 1 che è veramente molto molto chiaro il pack anche qui fatto in vetro con i dettagli tappo in oro è arricchito con aloe vera dalle proprietà rinfrescanti quindi la coprenza dovrebbe essere medio alta e modulabile infatti c'è e faccio fatica però si fa un pochino fatica questo l'ho anche visto in negozio ho notato questa cosa e però vabbè l'ho voluto prendere lo stesso si fa un pochino di fatica nel nel prelevarlo dalla boccetta comunque questo è il colore veramente molto molto chiaro sperando che sia adatto a me però voi comunque se siete più scure vi consiglio la colorazione 2 e l'applicatore è con punta floccata però veramente si fa fatica a prelevarlo Kiko purtroppo con le colorazioni per quanto riguarda i fondi e i correttori non so perché sta sempre un passo indietro rispetto ad altri brand perché non è possibile che faccia ancora solamente tre colorazioni di correttori proprio impossibile poi ho voluto prendere il blush della collezione questo che ho preso io è il numero 1 che secondo me poi sbocciato voglio dire era molto bello era andata con l'intenzione di prendere il color 2 se non erro che era il color malva però poi sono stata rapita da questo colore di blush molto particolare e come sempre anche qui anche per quanto riguarda i blush c'erano solamente tre colorazioni comunque di questo prodotto Kiko dice che è un blush a lunga tenuta addirittura fino a 10 ore vedremo è facile da sfumare è arricchito con estratto di zafferano e note di rosa aia qui ricompare la rosa che ho capito dalla scorsa collezione Kiko che è una profumazione che a me non fa impazzire il pack devo dire ha il suo peso non è tanto leggero è in legno con sempre dei dettagli in oro questo qui è in viola mentre invece il pack delle palette occhi è praticamente dello stesso colore di questo quindi è in color ruggine ma sempre fatto in legno mentre invece il blush illuminanti e terre erano comunque su uno di questo color violaceo e questo pack praticamente si apre in questo modo svitando praticamente il coperchio che da un lato c'è lo specchietto e dall'altro c'è anche la pellicola che adesso possiamo anche buttare c'è questo blush sulla trama c'è comunque questo questo disegno floreale molto bella sulla cialda e da un lato abbiamo un blush matte e dall'altra un blush luminoso che adesso vi sguoccio entrambi questo ricalchiamolo un pochino di più e questi sono i colori non so se si può notare il blush matte non è che ha un'altissima scrivenza almeno dello swatch comunque è un blush molto molto naturale comunque un marroncino molto chiaro e dall'altra c'è un illuminante c'è un blush luminoso ecco in molte pensavano che questo sia un illuminante vero e proprio ma vi assicuro che non è così volendo potete utilizzare sia delle cialde singole oppure anche fare una sorta di mix di entrambe le cialde e viene fuori una sorta di marroncino luminoso raga il pack è bello ed è da collezione cioè su questo veramente nulla da dire però per quanto mi riguarda lo trovo scomodo e assolutamente non adatto da portare in viaggio un prodotto occhi che invece ho acquistato e secondo me è più interessante è questo duo occhi da una parte c'è un primer e dall'altra un ombretto metallico io l'ho preso nel colore 4 anche qui c'erano pochissime colorazioni se ne erro si 4 4 colorazioni in tutto il pack di questo è più diciamo un marroncino insomma molto più caldo con sempre dei dettagli in oro e da una parte c'è il primer qui c'è il primer che è un un color burro quindi si stende prima il primer e lo si sfuma sugli occhi e poi si applica l'ombretto al di sopra al di sopra al primer per far durare di più l'ombretto e questo che ho preso io secondo me è la colorazione più particolare secondo me tra le quattro perché è una sorta di grigio platino con del verde all'interno e poi ultimamente sto acquistando da Kiko sempre cose verdastre verdi non so perché comunque vengo attirata da queste colorazioni che sono molto molto particolari questo non vedo l'ora di provarlo poi altro prodotto occhi che ho acquistato è questa matita occhi eyeliner e kajal io l'ho presa nel colore 2 eccola qui ma c'era anche quella color burgundy che mi piaceva un sacco volevo prenderla ma purtroppo il negozio già non era più disponibile era finita e quindi ho portato per questa marrone che sono sempre alla ricerca di una matita valida marrone che io le utilizzo tantissimo mi piace tanto utilizzarle in estate questo è il pack sempre con dettagli in oro e questa matita è arricchita con olio di jojoba e burro di karité può essere utilizzata all'interno e all'esterno della rima dell'occhio grazie al pratico applicatore in spugna sul fondo che appunto serve per sfumare quindi anche per degli smocchi è perfetto questo per andare a sfumare poi altro prodotto super particolare di questa collezione secondo me è questo siero nutriente per ciglia e sopracciglia la sua formula vegan è arricchita con glicerina sul sito dice che dopo 28 giorni di utilizzo il volume delle ciglia aumenta del 6% e la lunghezza aumenta del 3% quindi boh staremo a vedere il pack è fatto sempre di questo color caldo ruggine sempre con dettagli in oro e questo è lo scovolo ed è totalmente trasparente trasparente quindi la texture è trasparente e ha uno scovolo in fibra l'ho già utilizzato a dire la verità un paio di volte ma da solo senza applicare il make up al di sopra e la profumazione vi posso già dire che non mi piace cioè sembra il classico odore del mascara comunque questo prodotto va applicato prima del make up quindi lasciate asciugare per bene il prodotto prima di applicare il make up poi ho voluto prendere comunque un prodotto labbra e quindi ho preso questo rossetto idratante dal finish matte ed è un rossetto in stilo questo è nel colore 5 anche qui devo dire le colorazioni non erano tante e nemmeno granché quindi ho portato sul classico nude malva il pack di questo invece a differenza degli altri che abbiamo visto color ruggine questo è violaceo però anche lui riprende tutti questi dettagli in oro è infatti in un rossetto in stilo perché sottile e il colore adesso ve lo sboccio è questo qui ed è questo Kiko dice che questo rossetto è arricchito con estratto fermentato di melograno e all'aroma di fiori di riso quindi dovrebbe essere un rossetto confortevole ma allo stesso tempo matte quindi non so come sia possibile lavere entrambe le cose comunque staremo a vedere e infine arriviamo ai pezzi forti della collezione e vi mostro in primis il profumo in formato solido cioè questa è una chicca una novità assoluta io sinceramente non l'ho visto da nessuna parte non so voi io veramente non ho visto da nessun brand che ha fatto mai una cosa del genere cioè risulta come un vero pack di un lip balm praticamente anche questo color comunque violaceo con dettagli in oro questo mandala stupendo e c'è un formato in stick devo dire innovativo e accattivante che permette di portarlo con sé in borsa o in valigia la fragranza è bella delicata se riesco ad aprirlo ok questo è il profumo solido che c'è bianco totalmente trasparente vedete e raga la fragranza è bella delicata allo stesso tempo avvolgente io lo sto utilizzando già questa è la terza volta stamattina che l'ho messo devo dire che è molto particolare bella la fragranza tra gli ingredienti troviamo il bergamotto il cuoio il legno di cedro miele il dattero pacciuli muschio e fava tonca sul sito c'è scritto che non va strofinato sulla pelle ma lasciarlo asciugare naturalmente raga scusatemi intanto mi si sta scaricando la batteria del cell quindi per poterlo caricare mi sono messa in questo angolino quindi finirò il video ecco sul mio comodino comunque vi mostro l'ultimo prodotto che ho acquistato ed è questo scrub corpo esfoliante e levigante non lo apro all'interno raga perché aspetto di utilizzarlo in pieno inverno comunque ci tengo a farvi vedere il pack primario che è sempre come potete vedere questo bel violaceo con il tappo lucido in oro all'interno ci sono 250 grammi di prodotto che devo dire veramente tanto ed è arricchito con olio di mandorle olio di semi di sesamo e moringa ed estratto di centella asiatica raga poi mi hanno dato un buono sconto di 10 euro da spendere dal primo al 13 novembre e penso che acquisterò utilizzerò quel buono con il calendario che ho già visto che è uscito sul sito se volete vedere il video del calendario lo spacchettiamo insieme e fatemelo sapere giù nei commenti e poi visto che io faccio i punti chico aggiungendo 20 euro sulla spesa portavo a casa con me tre prodotti a mia scelta di skin care e quindi ho scelto questi tre prodotti ho scelto questo siero con tornocchi che va a contrastare le borse e le occhiaie